benvenute e benvenuti a molecole in scatola dialoghi su chimica e società a cura del dipartimento di chimica dell'università di torino in ogni puntata racconteremo un problema una necessità tecnologica o un mistero risolto dalla ricerca o su cui si sta ancora lavorando tirando fuori dalla scatola una molecola o un materiale o un oggetto per capire come funziona a cosa serve o dove lo trovate magari senza saperlo nella vita di tutti i giorni quale sarà il contenuto della scatola di oggi buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di molecole in scatola io sono il professor bartolomeo civalleri docente di chimica fisica e oggi sono qui con la mia collega la professoressa marta corno buongiorno benvenuti a tutti a tutte bene marta allora sappiamo che dobbiamo estrarre una molecola da questa scatola e vediamo che cosa abbiamo allora cerco di aiutarti vediamo un po che cosa si trova ma è un oggetto molto grande e piuttosto composito ecco guarda un po questo mi mi sembra intanto un enorme becker lo riconosco sono un chimico insomma però questo oggetto qui questo è tutt'altro che che è una molecola anzi non ha nella forma e nell'aspetto di una molecola mi sembra più qualcosa di elettronico esatto non è effettivamente una molecola ma è la scheda madre di un computer quella che si trova in tutti i computer che abbiamo anche piccoli grandi eccetera e in questa scheda madre è presente un microprocessore sai che cos'è un microprocessore vuoi svelare il mistero subito certamente allora microprocessore per gli informatici si chiama cpu central processing unit ed è appunto noi lo chiamiamo processore non stiamo a dire tutte queste parole ma è il cervello o il regista di un computer quindi si occupa di coordinare le informazioni che otteniamo dal computer di effettuare le operazioni di calcolo elaborare i dati insomma uno strumento potentissimo però adesso bisogna spiegare che cosa ci fa questo perché cosa ci fa una scheda madre dentro a un becker che faccio anche fatica a infilarlo altro che fare chimica con questo è qui che ti sbagli perché la chimica si può fare anche effettivamente utilizzando questo oggetto bisogna fare un cambiamento di paradigma di punto di vista passare dall'idea del chimico da laboratorio la persona che indossa il camice bianco e che usa reagenti come questo per fare svolgere il suo lavoro ha un altro tipo di scienza sappiamo che esistono altri paradigmi oltre alla scienza sperimentale la scienza sperimentale è proprio quella in cui noi proviamo in modo empirico a capire i fenomeni ma quella è la cosa più divertente sì è divertente e poi dipende dalle predisposizioni di ognuno di noi a essere pasticcioni parlo ovviamente per me stessa tuttavia se pensiamo nell'evoluzione scientifica esiste anche un secondo paradigma che è la scienza teorica beh sì suppongo che tutti voi conosciate grandi personaggi come Einstein Newton Bohr oppure non lo so chi possiamo citare Schrödinger si tratta di personaggi di eminenti scienziati che hanno cercato di spiegare i fenomeni in modo teorico tramite delle equazioni matematiche ah ok comincio a capire cioè come la termodinamica o Newton per la meccanica classica ovviamente la chimica arriva un po' attraverso la meccanica quantistica hanno la spiegazione teorica esattamente però va bene detto questo in realtà bisogna aggiungere però un aspetto importante cioè come arriviamo a questo oggetto cioè in realtà negli anni 30 quando c'è stata l'evoluzione anche della meccanica quantistica in realtà sono stati anche posti fondamenti della scienza dell'informazione con Alan Turing e altri scienziati che hanno poi portato allo sviluppo dei primi elaboratori elettronici nella fine della seconda guerra mondiale poi negli anni 50 e 60 l'evoluzione dei primi computer e calcolatori e fino ai supercalcolatori di oggi i supercalcolatori i supercalcolatori che fa un po' sorridere in realtà si tratta proprio di questi enormi insiemi di microprocessori che permettono di fare cosa con la chimica però perché certo no ma che noi combiniamo e le equazioni che dobbiamo risolvere in modo più o meno complicato come ad esempio l'equazione di Schrödinger la mettiamo dentro un calcolatore perché diciamo è un problema abbastanza complicato ma quindi le molecole come le studiamo al calcolatore? le molecole in qualche modo le facciamo entrare in realtà noi la diciamo prendiamo l'equazione di Schrödinger che in qualche modo descrive la chimica e descrive il comportamento degli elettroni e elettroni perché sono proprio gli elettroni i protagonisti in generale della chimica la chimica è basata sugli elettroni è come una colla è il collante della natura chimica e quindi questa equazione di Schrödinger 1926 è in grado di permetterci di studiare le molecole tramite il computer? sì perché noi descriviamo il comportamento degli elettroni che si muovono intorno ai nuclei li tengono legati fra di loro e costituiscono l'insieme elettroni e nuclei quelle che noi chiamiamo le molecole le molecole quindi è una chimica un po' diversa dal solito che in realtà esiste da diversi anni e si chiama chimica computazionale hai svelato il mistero di oggi infatti oggi il nostro intento è quello di spiegarvi un po' che cosa fa la chimica computazionale cioè questa rivoluzione che ci ha portato da una scienza empirica una scienza teorica una scienza computazionale che combina teoria e diciamo quei calcolatori per poter risolvere equazioni complicate e fare delle quelle che chiamiamo le simulazioni delle simulazioni quindi per esempio io posso sognare tante cose in realtà ma ad esempio una molecola che non esiste e tramite il computer crearla calcolarne le proprietà wow fantastico però quindi scusami tu prenderesti il laboratorio dove ne siamo adesso e lo infileresti dentro un computer ci puoi spiegare come funziona? un po' il discorso del piccolo chimico che avevamo da bambino in un pc quindi sì noi possiamo tramite dei programmi di calcolo effettivamente rispondere a delle domande ad esempio mi viene in mente noi abbiamo delle strutture, dei materiali e non sappiamo dove sono gli atomi all'interno di quei materiali e sperimentalmente utilizziamo dei metodi per esempio i raggi X raggi X sappiamo tutti cosa fanno no? panoramiche se mi strompo una spalla esattamente con il computer con il computer noi siamo in grado di capire senza dover utilizzare dei metodi sperimentali e quindi degli strumenti dove si trovano effettivamente gli atomi ah beh poi possiamo confrontarlo perché i raggi X noi li utilizziamo anche per andare a vedere dove sono posizionati i nuclei in una molecola attraverso la diffrazione degli elettroni certamente quindi questo è solo un esempio poi possiamo studiare come vibrano per esempio gli atomi perché non pensiate che la materia sia ferma ma c'è una vibrazione continua e noi possiamo decidere di andare a vedere delle specifiche vibrazioni tramite il computer tramite le simulazioni ma noi in qualche modo diciamo sollecitiamo o solletichiamo la natura e vediamo come però invece di farlo nel laboratorio come siamo qui oggi lo facciamo dentro a una nuova scatola perché io adesso posso togliere la scatola dove abbiamo la scheda madre e posso tirare fuori un pc e quello che abbiamo detto adesso lo possiamo mettere all'interno del calcolatore e far vedere o diciamo immaginare di avere delle molecole dentro in cui il campione del laboratorio diventa un input per il programma di calcolo e il calcolatore ci esegue l'operazione sembra un po' tutto lontano dal nostro mondo quotidiano ma non è così proprio perché ad esempio nel calcolatore noi possiamo vedere di risolvere dei problemi di grandissima importanza certo diciamo ovviamente qualsiasi molecolo che mi viene in mente ma posso anche pensare di studiare non so come la CO2 dell'aria può essere catturata da un materiale all'interno dei pori e vedere qual è il materiale migliore senza dover fare degli esperimenti oppure andare in condizioni che non riuscirei a realizzare in un laboratorio ma magari di temperatura e pressione così elevati come se mi trovassi al centro della terra e quindi studiare il comportamento di materiali o le stelle o le stelle wow astrochimica al computer fantastico fin là non ci arriviamo torniamo esatto torniamo a noi secondo me sarebbe interessante ricordarci che anche nell'ambito farmaceutico la chimica computazionale è importantissima no è chiaro si possono pensare di inventarsi o di disegnare delle molecole con un'attività specifica e invece di farlo in laboratorio lo si fa al calcolatore oppure trovo estremamente affascinante anche per i problemi diciamo che abbiamo avuto recentemente e le implicazioni a livello della nostra società della pandemia di covid c'è stato un bellissimo esempio in cui un gruppo di ricercatori coordinati dalla dottoressa Romnia Amaro dell'università di San Diego che ha studiato ha fatto una simulazione in quel caso non era l'equazione di Schrödinger ma l'ha fatto in modo classico però è stato simulato come si comporta il sito recettore della proteina spike che è quella che va ad agganciarsi alla membrana cellulare e questo sito recettore viene la dinamica di questo sito è importante perché questo è esposto alla superficie e in quel modo riesce ad agganciarsi e loro fanno vedere che questa dinamica è dovuta al fatto che un pezzo di proteina in qualche modo sostiene questo sito recettore e permette l'aggancio se quindi scusami se ti interrompo ma quindi noi stiamo parlando effettivamente di capire come evitare che un pezzo del nostro virus giusto? esatto cioè quello non solo perché guardando cosa succedeva nell'animazione hanno visto che c'era un pezzo di proteina che sosteneva questo recettore se hanno questo è il grosso vantaggio della simulazione che può precedere anche gli esperimenti e poi sperimentalmente sono andati a mutare la proteina in modo da eliminare questo pezzo che sosteneva il sito recettore e eliminando questo il virus risultava meno infettivo quindi questo ci permette di capire diverse cose effettivamente diverse cose un chimico un po' diverso dal solito sì è un microscopio è come se non avessimo un microscopio che a livello atomico ci permette di andare a vedere cosa succede non sono solo quelle palline che si muovono no no c'è di più lo so ma tutti questi dati che vengono generati all'interno dei computer come vanno gestiti poi? quello non so bisogna pensarci questo potrebbe essere l'oggetto di un'altra puntata del podcast un altro mistero da svelare esatto vediamo grazie a tutti e tutte grazie a tutti molecole in scatola è realizzato dalla commissione public engagement del dipartimento di chimica dell'università di Torino dipartimento di eccellenza 2023-2027 da un'idea di Francesca Turco musico originale di Filippo Turci si ringraziano Paolo Mazzà ed il team ICT per l'assistenza tecnica e Shiva Salepur per il montaggio le puntate sono disponibili sul canale youtube del dipartimento sulla piattaforma podcast Spreaker e su Spotify